Campagna Amica presenta questa importante iniziativa sulla pizza Abruzzo a chilometri zero. Sull'arte della pizza d'Italia. La pizza è un simbolo italiano. Il progetto Goldiretti è un progetto importante ed ambizioso, quello di riaffermare nel mondo il valore, l'immagine, ma anche economico, di quello che è il Made in Italy agroalimentare. Ci sono state una serie di iniziative, tante sono in corso e tante se ne faranno in futuro, finalizzate proprio alla riappropriazione di questo patrimonio che è il valore del Made in Italy. La pizza nella sua semplicità rappresenta forse il miglior simbolo del Made in Italy nel mondo, che però rappresenta anche quel piatto, quell'alimento, quel simbolo italiano più sofisticato e manipolato nel mondo. Di vera pizza italiana nel mondo ce n'è pochissima. Questa ha vantaggio di lobby che fanno sofisticazione nel mondo, che approfittano del Made in Italy nel mondo. È a svantaggio del nostro prodotto e della nostra economia. Una pizza fatta con mozzarella, farina, ingredienti a chilometri zero della nostra terra. L'obiettivo è quello di far sì che la pizza diventi un patrimonio immateriale dell'UNESCO. Questo è lo sforzo, l'obiettivo ambizioso che col Diretti si vuole dare. Con questa iniziativa qui al mercato di Campagna Amica di Pescara stiamo lanciando questa petizione. Vogliamo che tanti cittadini raggiungano questo mercato e possano sostenere questa eccellenza del Made in Italy, dell'eccellenza dei nostri prodotti agroalimentari. E noi lanciamo anche questa mattina una pizza che chiamiamo Pizza Abruzzo, con i prodotti con la farina del grano tenero che raccoglie il Consorzio Agrario, con il latte dei nostri allevamenti che è trasformato in mozzarella dai cassifici del nostro territorio e il pomodoro che viene in qualche modo lavorato, passato, dalle nostre aziende agrituristiche. Questa è una grande sfida che vogliamo vincere insieme a tutti gli agricoltori e gli imprenditori abruzzesi.